La cerniera tra i sassi e il nuovo, quindi prende un po' dall'uno e un po' dall'altro. Erano le case migliori, intanto perché c'erano due accessi, quindi la stalla era la parte retrostante, la parte di dietro, potevi accedere anche da dietro, non avevi l'esigenza di passare con il mulo dalla parte davanti e quindi invadere la casa, poi c'era un muro vero e proprio, che divideva la casa dalla stalla, la doppia ventilazione davanti a casa al nuovo, le case nuove. Siamo fuori dal sasso, nella zona residenziale. Stanno qui da 1850, 1850 anni, non ci sono cedimenti, non c'è, è ben fatto. In una frase semplice, come riassumereste, raccontareste via casa nuova? Un condominio orizzontale, senza ombra di luce.